cura pre intervento se c'è qualcosa da fare allora purtroppo come cure pre intervento non attualmente la scienza non ci fornisce supporto quello che però possiamo consigliare a massimo sicuramente è quello di eseguire dei controlli periodici in modo da valutare qual è la velocità di progressione e il deficit visivo determinato dalla sua cataratta e quindi poi diciamo pianificare per tempo l'intervento e quindi evitare di trovarsi una condizione di grave deficit visivo prima di eseguire l'intervento di cataratta. Grazie a tutti.